Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto a batterie per videocamera. Batteria ricaricabile per Batteria ricaricabile per Sony Videocamera Professionale Modello BPU30, 14, 4V, 5200MA75WH, Lilion. Batteria compatibile Poveri. Compatibile. 14, 4V, 5200MA75WH. Dimensioni. 69, 8mm X41, 7mm X84, 1mm. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.